Questa è dedicata a una persona che faceva i tini, prima si fosse da Atene per lavare, per aprire, che ho finito dedicata a lui. Allora, ricorcio, a Pia Saltonò, ripeto a Maria Anneta, lo faccio il maschio d'Arche, lo faccio, e benediti. Stavano da una grotta, pur la pura scuola, lo chiamavano tutti qua, lo faccio scarpato, non faceva solo due, pure cavallette per aprire. Muovete tanto amici, come si fosse da Atene? Un po' che faccio lì, se basta stagiacchè, lo chiamavano, Poi la dà bella teglia a chi fa l'uva valette. Un po', ancora lo chiamavano, come fosse un giudice. Beh, per il bevo, adesso che è rimasto senza diete. Non è che ho dovuto dire se facessi da Atene, soltanto che volevo dire, i dita dovuto aprire. A corte della pagina parte, i dita che erano funzionati, ricordi, con un scarpino e qualche martellino, faceva i dita penduti, non stessi assentati. E così, patecano, patecano, se ero pure riusciti. O che guardi un altro, passano a mangiare la cosa. Diceva la tua lì, a ricocciare la ciascola, avvicinavano, se lo volevo. Ricordi, da Atene a cammarei, e ricordi. No, ma tengo a mamma di quella tracca a lei. Tocchiato poi, dicendo, da Atene a lavandese. No, ma tengo a sordi, che sto a me che è in una quartiera. No, 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 no. No, ma sembrava. Perché io non mi puoi vede andare. Moi, invece, per un'unità, se accito oppure se scalano, sentite schiutti da nanmi mga banani.